Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle nella prossima puntata del 5 ottobre. La presentatrice ex pomeriggio 5 danzerà con un ballerino professionista e sarà giudicata dalla giuria. Si prevede anche un confronto con Selvaggia Lucarelli, con cui ha avuto divergenze in passato. Recentemente D'Agospia ha rivelato il cachet offerto alla conduttrice per partecipare al programma di Milli Carlucci, parlando di cifre esorbitanti. Secondo le indiscrezioni, Barbara D'Urso potrebbe avere un programma tutto suo all'inizio dell'anno prossimo e anche nella prossima stagione televisiva. Si ipotizza che la sua presenza in Rai sia una sorta di vendetta nei confronti di Berlusconi, sostenuta anche da Giorgia Meloni. Il partito di maggioranza sarebbe arrabbiato con Mediaset per varie questioni, tra cui l'ospitata di Maria Rosaria Boccia a carta bianca su Rete4 e i fuori onda di Andrea Giambruno resi pubblici da striscia la notizia. Barbara D'Urso ha dichiarato di voler fare delle rivelazioni contro Mediaset, promettendo di parlare come una qualsiasi persona. La sua partecipazione a Ballando con le stelle potrebbe essere solo l'inizio di una serie di progetti televisivi futuri.